Rende omaggio alla città in cui è nato l'intellettuale eugubino Goffredo Fofi. Lo fa con un'iniziativa significativa, la donazione di oltre 10.000 volumi alla biblioteca comunale. Dopo mesi di lavoro è ora accessibile a tutti l'area contenente una parte della collezione di libri che il saggiste, critico letterario, cinematografico e teatrale ha voluto elargire alla sperelliana. Il materiale è stato attentamente schedato dal personale, come spiegato dall'assessore alla cultura Giovanna Uccellani. L'aula a scaffale aperto che contiene il fondo Goffredo Fofi, ha sottolineato ancora, è solo la punta dell'iceberg di una più vasta collezione che sarà integralmente conservata nei nostri depositi librari. Per farla conoscere nella sua interezza, il personale bibliotecario curerà periodicamente una rotazione dei libri, alternandoli tra deposito e aula a scaffale aperto. Il catalogo dei volumi donati è già parzialmente consultabile nel catalogo informatico accessibile attraverso il sito www.bibliotecasperelliana.it. L'aula del fondo Goffredo Fofi è stata completamente arredata con nuove scaffalature acquistate grazie ad uno specifico finanziamento della sezione Soci Coop di Gubbio che da anni collabora proficuamente con la sperelliana. Grazie al contributo attivato con la procedura Art Bonus Donazione Greta Carletti Giuliano Picchi e grazie alla collaborazione delle ditte eugubine Urbani Giovanni e Sicom.